Un saluto a tutti amici del web, io sono DatoBax, bentornati sul mio secondo canale e benvenuti in questo nuovo gameplay di StarCraft 2 e in questo video vedremo un tutorial dei Protos. Questo è il terzo tutorial di 3, utilizzo la mia solita tecnica di aver registrato preventivamente una partita in cui vado in realtà a parlare in maniera confusissima, insomma vado a mostrarvi le varie cose dopodiché proprio come nei precedenti tutorial ho deciso di ridoppiare ciò che avevo detto, magari mettendo in pausa per poter fare dei discorsi più organici e per spiegarvi passo passo le cose che faccio durante la partita con calma. Allora, sono qui in Windows Media Player, come potete vedere andremo ad analizzare con calma la partita che ho fatto una partita più breve ancora delle precedenti perché questi tre tutorial teoricamente dovrebbero essere visti di fila cioè tutte le cose base che ho spiegato negli altri due non le andrò a spiegare in questo quindi se per caso questo è il primo tutorial che state vedendo date un'occhiata anche agli altri due vi lascio il link in descrizione. Bene, ragazzi il Protos ha come struttura centrale il Nexus che è questa struttura qua, che ha come abilità un'abilità che vi farò vedere mentre come lavoratore ha la sonda che ha come abilità speciale il fatto che non deve stare a costruire le strutture che evoca perché in effetti non costruisce le strutture ma appunto le evoca facciamo un esempio, io ora andrò a costruire un pilone il cosa sia un pilone e il perché sia importante ve lo farò vedere a breve innanzitutto potete vedere che in alto a destra vicino al numero di riferimenti guarda un po' c'è proprio il disegno di un pilone perché il pilone è l'equivalente del deposito o degli overlord ma contemporaneamente serve a fornire energia alle strutture ma lo vedremo tra un attimo allora vado a piazzare un pilone come potete vedere inizia l'evocazione ecco vedete la costruzione va avanti e noi possiamo togliere la sondina e metterci a fare altro questa è una cosa molto importante della tipologia protos cioè che le sonde fondamentalmente non devono stare a costruire questo insomma porta una serie di novità nel loro modo di giocare ora è inutile andarle a vedere tutte queste novità che possono portare insomma è inutile andarle a discutere ora tenete conto comunque che questo vantaggio è un serio vantaggio facciamo un esempio banalissimo se voi state costruendo una struttura con i Terran e vi vengono a dar fastidio all'SCV e ve lo uccidono la struttura rimane insomma incompleta invece nel momento in cui la sonda mette a costruire la struttura possono ucciderla teoricamente la struttura continua a completarsi insomma capite che questo apre diversi scenari bene andiamo a piazzare il portale che sarebbe l'equivalente della caserma e come potete vedere lo andiamo a piazzare proprio all'interno vediamo un po' se vado un po' più indietro vi faccio vedere proprio eccolo qua quando voi premete a parte il fatto che c'è proprio scritto evoca quindi insomma proprio in maniera consistente a quello che ho detto finora ma come potete vedere viene evidenziato proprio insomma la circonferenza il cerchio di potenza che insomma piazza appunto questo pilone perché questo pilone permette tutte le costruzioni permette insomma di dare energia a tutte le costruzioni al suo interno e noi andiamo a piazzare proprio una struttura qui in maniera tale che sia potenziata da questo pilone questo che cosa significa? che se distruggeranno il pilone tutte le strutture all'interno della sua area di influenza verranno disattivate questo qua insomma come potete capire apre una serie insomma di varianti tattiche le uniche eccezioni sono il nexus che non ha bisogno di piloni e gli assimilatori che però vanno costruiti solamente sulle fonti di gas bene quindi andiamo a piazzare il gate l'assimilatore questa qua è l'accelerazione temporale come avete potuto vedere questa qua è l'abilità che ha il nexus quello più importante poi c'è anche il richiamo di massa però è una funzionalità avanzata per ora non la vedremo insomma il crono boost praticamente serve per accelerare temporalmente solo la struttura sulla quale si insomma scaglia questa magia via chiamiamola in questa maniera praticamente come potete vedere il tempo che serve alle sondine per uscire è ridotto ora non mi ricordo precisamente la percentuale però nelle fasi iniziali ragazzi il crono boost è molto importante utilizzatelo vi consente insomma di avere un bel vantaggio allora andiamo a saturare il gas sono tre lavoratori per gas nel frattempo si sta ricercando il portale avete visto che ho costruito un altro pilone continuiamo la gestione insomma delle sonde voi come anche le altre partite dovete saturare qua i lavoratori dopodiché una volta che è finito il portale vi si sbloccheranno delle altre strutture vedete un po' vi si sbloccherà il centro cibernetico la forgia è la struttura che vi serve per costruire i cannoni e contemporaneamente per fare i potenziamenti però per ora non la vedremo vedremo più che altro come insomma le unità base l'esercito base insomma l'ossatura dell'esercito protos e per farlo la cosa importante da fare è subito dopo il portale il centro cibernetico cacciamo fuori uno zelota come potete vedere tutte queste varie unità si andranno a sbloccare man mano costruendo altre strutture nel caso specifico una volta costruito il centro cibernetico potremo fare le sentinelle e i persecutori ma tipicamente ve le faccio vedere insomma ve ne discuterò insomma man mano che usciranno dopodiché andiamo a piazzare il secondo gas ora non mi ricordo precisamente quando lo piazzo comunque nel frattempo continuiamo a costruire dei portali io ora vi faccio vedere probabilmente non mi ricordo se vi faccio vedere un foregate o comunque lo discuterò man mano che costruirò andiamo a costruire eccolo qui l'assimilatore perché ragazzi le unità protos in generale serve molto gas eccolo qua questo potenziamento è molto importante questo potenziamento che si chiama portale dimensionale consente ai portali di diventare appunto portali dimensionali il cosa fa questo potenziamento è fondamentale e lo vedremo anche questo man mano che sarà attivo perché nel momento in cui ve lo spiego prima insomma è difficile da capire come potete potuto vedere con il cronoboost ho accelerato temporalmente il centro cibernetico in quanto il portale dimensionale è veramente importante come tecnologia e dal portale una volta che è uscito il primo zelota andate a ricercare un persecutore e dovreste avere proprio i tempi insomma se avete avuto i tempismi giusti dovreste avere il centro cibernetico il gas necessario eccetera per fare insomma questo che sto facendo con un'altra sondina andiamo a piazzare un altro gate e teoricamente ora potreste anche espandervi va bene però io in questa prima partita non mi espanderò vi farò vedere una cosa molto semplice su una base se non erro questa partita l'ho giocata qualche giorno fa quindi ora non ricordo in realtà esattamente che cosa faccio comunque man mano andando a vedere vi farò vedere allora come potete vedere inizialmente senza la tecnologia del portale dimensionale i gate funzionano esattamente come una caserma terran cioè producono l'unità all'interno e la fanno uscire però questo significa non utilizzare appieno la tecnologia protos per questo stiamo ricercando il portale dimensionale ma vi farò vedere a breve che cosa consente di fare ragazzi questa caratteristica che tra un po' vi farò vedere è la caratteristica più importante dell'esercito protos ed è contemporaneamente anche la caratteristica che non mi fa insomma non riesce per la quale io non riesco a giocare protos però se la riuscite a padroneggiare è veramente qualcosa di fantastico ora ve la faccio vedere quando ci arriverete se non l'avete mai visto cosa fanno i protos rimarrete tipo wow perché è veramente fantastica sì ho mandato una sondina non l'ho mandata a scautare perché nelle precedenti partite tanto la mandavo a scautare stiamo giocando contro un'intelligenza artificiale a semplice anzi a molto facile quindi non lo sto scautando per questa motivazione chiaramente se voi giocate in multiplayer ragazzi scautate sempre ma l'ho spiegato nelle precedenti puntate comunque insomma questa cosa qua ragazzi l'esplorazione sta sempre alla base come avete potuto vedere sono su clay blocked ma ma ecco ho sbagliato a piazzare volevo piazzare eccolo qui un pilone ma che cosa vedremo tra un attimo nel frattempo la sondina qua ha avuto insomma mi sono distratto ho mandato la sonda lì anziché qui ora vi faccio vedere che cosa doveva fare questa sonda evidentemente nel frattempo in cui giocavo stavo parlando e mi sono distratto ed è per questa la motivazione che sto ridoppiando la mia partita iniziale eccola qua questo doveva fare la sondina cioè arrivare in prossimità della base nemica e piazzare un pilone perché piazza un pilone lì? questo qua è un pilone di supporto che ora non mi ricordo in gergo come si chiama comunque un pilone di supporto un proxy pilon ecco un pilone di prossimità che ci permetterà e vedete che è finita la ricerca dei portali dimensionali si sono aperti i portali al che possiamo selezionare i portali cliccando qui vedete? oppure cliccando sulla tastiera alla lettera W in questa maniera insomma praticamente selezioneremo rapidamente tutti i portali dimensionali e potremo evocare ora vi faccio vedere eccolo qua possiamo evocare all'interno dell'aria di un qualsiasi pilone le unità che verranno evocate direttamente lì ragazzi non so se cioè io ragazzi credo che le immagini parleranno da solo ora ve lo farò rivedere quando il tempo insomma di caricamento dei portali si sarà riattivato ma è qualcosa di fantastico cioè guardate un po' noi che cosa stiamo andando a fare nel frattempo vado a cronoboostare in exus eccoci qua una volta che sarà pronto la mi son distratto una volta che sarà pronto questo pilone di prossimità guardate un po' andiamo a premere W e all'interno di questo pilone quindi proprio al ridosso della base nemica andiamo ad evocare guardate un po' tac 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 cioè arrivano i rinforzi subito questa è una cosa importantissima ecco questa qua è proprio la base dell'attacco protos con gli zeloti che compongono la prima linea perché fanno attacco corpo a corpo con i persecutori che fanno il danno ranged quindi devono stare in seconda linea e una o due sentinelle ragazzi mescolategliele sempre perché hanno dei poteri speciali ora vi fanno vedere che cosa fanno le sentinelle la cosa base è lo scudo guardiano cioè tutte le armi che devono trapassare lo scudo guardiano fanno meno danno e questa è una cosa importante già di suo chiaramente se giocate contro per esempio il terran già i marine fanno meno danno a tutte le unità che sono all'interno dello scudo quindi già solo lo scudo guardiano già solo una sentry con lo scudo guardiano già è importante vabbè qua vinciamo con molta facilità ripeto perché l'intelligenza artificiale è molto facile però ho insomma il tempo di mostrarvi anche un'altra cosa vabbè nel frattempo come potete vedere qua mando ancora i rinforzi vedete com'è utile avere il pilone di prossimità com'è utile questa cosa una persona potrebbe dire Dato Bax ma è fantastica sta cosa come fai a non trovarti con questa insomma è comodissima no? ecco il punto è questo che io mi dimentico di evocare le unità cioè che cosa voglio dire se ci mette 10 sec non mi ricordo quanto tempo ci mette il gate a ricaricarsi ma quando finisce di ricaricarsi il gate voi dovete sempre evocare le unità per non perdere tempo a come dire mentre i Terran hanno una coda di produzione o gli Zerg permettono di sciamare con i Protoss voi dovete ricordarvi di farlo l'esercito se no magari arrivate con i gate che sono praticamente fermi da molto tempo insomma ragazzi tenete conto di questa cosa è molto potente come tecnologia però serve insomma serve che ci state ci stiate appresso perché richiede insomma una discreta attenzione molto di più insomma dell'avversario insomma delle altre due razze come potete vedere mi impappino a parlare anche qua con tutta la facilità di questo mondo potete immaginare durante la partita insomma che dialogo penoso avessi fatto però tutto sommato credo che le cose importanti ve le abbia dette guardate io spero ovviamente che possa essere stato di vostra utilità e c'è tempo anche per mostrarvi un'ultima cosa che è il campo di forza o comunemente detto force field insomma in gergo eccolo qui un campo di forza delle sentinelle serve a fare tante cose però dubito che nelle vostre prime partite riuscirete a fare cose super io vi faccio vedere un possibile utilizzo cioè supponete che questa è la vostra base e sta arrivando un attacco e avete bisogno di guadagnare del tempo per evocare altre unità piazzate un campo di forza qui tac e quindi non possono entrare oppure che cosa potete fare stanno salendo le unità fatene salire metà esercito piazzate un force field e sterminate l'esercito che c'è sopra così dividendo l'esercito fate un po' il discorso degli orazzi e dei curiazzi separando l'esercito riuscite a batterli più facilmente e questo è più o meno tutto ragazzi io spero vivamente che questa terna di tutorial possa essere stato di vostro interesse di vostro gradimento io ho interesse a come dire a diffondere il verbo di starcraft quindi fatemi sapere se ci sono altre cose insomma che volete vedere queste sono proprio quelle base ne vedremo degli altri man mano più avanzato quindi io vi consiglio onestamente se non siete iscritti al canale volete vedere questi video di iscrivervi insomma comunque di seguirlo il canale e chiaramente anche nel momento in cui siete insomma più bravi a giocare ora abbiamo visto dei tutorial ma comunque in futuro torneranno anche dei video insomma come in passato in cui commenteremo diverse partite di starcraft anche dei pro ragazzi grazie a tutti per l'attenzione noi ci vediamo al prossimo video sempre qui ciao a tutti